Bere una quantità di acqua appropriata, non meno di un litro e mezzo al giorno, evitare le esposizioni termiche nelle ore più intense, soprattutto nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, stare in ambienti adeguatamente climatizzati, ma soprattutto, vi sottolineo, l'importanza è di evitare quelle che si chiamano le brusche escursioni termiche. Queste le poche semplici regole per affrontare le eccezionali temperature di questi giorni. Anche il tarantino, come l'intero Mezzogiorno d'Italia, è nella morsa di Caronte, con picchi che superano i 40 gradi. Per questo, l'ASL Taranto ha messo in piedi un programma per affrontare l'emergenza, soprattutto a tutela delle persone fragili. Pallore del viso e debolezza sono segnali che devono accendere un campanello d'allarme, perché potrebbero ricondurre a ipotenzione. Per quanto riguarda i bambini, anche loro sono particolarmente sensibili a queste temperature, ma anche in questo caso alcuni accorgimenti possono risultare salvavita. L'abbigliamento deve essere molto leggero, fatto di indumenti con fibre naturali, ha la idratazione adeguata e continua. Ricordiamo che i neonati non hanno il senso di sete e di senso di fame sviluppato fino almeno al primo mese di vita. E quindi è importante che i caregivers intervengano favorendo la loro idratazione. L'alimentazione nell'età pediatrica deve essere invece adeguata, ricca soprattutto di sostanze liquide, fresche, di alimenti naturali, quindi faccio riferimento alla frutta, e soprattutto di zuccheri complessi, quali appunto riso, pasta, associando delle proteine, non in maniera elaborata, ma abbastanza semplice. Le temperature non accennano ad abbassarsi e saranno roventi almeno fino alla fine di questa settimana. Una situazione che è diventata emergenziale anche nei pronto soccorso. Abbiamo riscontrato un aumento statisticamente significativo delle problematiche correlate al calore, più 25% rispetto ai mesi precedenti, ma anche rispetto allo scorso anno. Quindi una tendenza in progressivo peggioramento di estate in estate.